Grazie a tutti Abbiamo cercato di dare il nostro meglio Purtroppo Ecco Diciamo che Più che altro Tu ci hai provato in tutti i modi Soprattutto con una bella sforbiciata Che non è entrata Ci ho provato Ho visto la palla arrivare dall'alto Ecco Diciamo le prospettive per questa CTEA League Che per voi comunque partivate Svantaggiate rispetto ad altre squadre Con la prova di oggi Diciamo che è poter dire la vostra Cerchiamo sempre di fare il meglio in ogni partita Poi vedremo sul campo Allora speriamo bene Un boccolo per proseguire il torneo Emozionato Emozionato Emozionato